Sono 7.739 gli ultraottantenni della TS della Montagna che hanno dato finora la loro adesione per sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti-covid. Il canale prevalente è stato quello del portale regionale 5.303 adesioni, 2.268 tramite le farmacie e 168 con i medici di medicina generale. Domani si inizia grazie alla collaborazione del personale sanitario di ASST Valtellina Altolario ma anche di numerosi volontari per la sicurezza con la somministrazione alle persone più anziane. ATS ribadisce che solo chi ha ricevuto conferma dell'appuntamento con data e ora si deve presentare al centro vaccinale indicato. Per i prossimi tre giorni, giovedì, venerdì e sabato, centri vaccinali attivi a Sondrio presso il Policampus, a Chiavenna e Morbegno presso i rispettivi presidi ospedalieri. Da venerdì al via la somministrazione del vaccino anti-covid, anche al Morelli dal 22 al 28 febbraio saranno attivati anche i centri realizzati grazie anche alla collaborazione dei comuni. A Bormio nel punto intervento a Reu, a Tirano a Palazzo Foppoli, a Berbenno al Teatro Quattro Torri, a Villa di Tirano nel centro polifunzionale, a Nuova Ologno di Dubino alla RSA Madonna del Lavoro. Sempre a partire da lunedì prossimo, comunicati a S della Montagna, saranno coinvolti in questa fase della campagna vaccinale riservata agli over 80 anche i medici di medicina generale che hanno aderito all'iniziativa.